Abbiamo aperto alla raccolta di firme per il referendum confermativo sulla riduzione dei parlamentari. Penso che sia interesse sia di chi è favorevole e sia di chi è contrario a tagliare i parlamentari in questo modo, senza alcuna riforma di contorno. Quindi noi ci aspettiamo che chi si è sempre appellato al popolo adesso sia conseguenziale anche in questa occasione. Diciamo che abbiamo fatto un'opera di servizio per coloro che vorrebbero che i cittadini si esprimessero.